L'Atalanta pareggia contro il Milan per 1-1 in casa e compie un altro piccolo passo verso la qualificazione europea. Passo che non è decisivo, si deciderà tutto l'ultima giornata, ma era fondamentale fare punti in questa partita per mantenere un vantaggio verso le concorrenti. Allora, io come al solito faccio alcune considerazioni, non vi racconto tutta la partita, anche perché penso che questa partita l'avrete vista un po' tutti, e poi leggerò molto volentieri i vostri commenti. Il primo commento, la prima considerazione che faccio è che la partita è stata fortemente condizionata da due fattori, il clima e l'albedro. Il clima, perché il diluvio che si è riversato su Bergamo all'inizio della partita, ha sicuramente condizionato il gioco. Con quella pioggia è praticamente impossibile impostare una partita tecnica o su ampi fraseggi, bisogna necessariamente giocare una partita molto più maschia. Che comunque abbiamo giocato abbastanza bene, nonostante anche nel fraseggio non c'entra la piovaggia, abbiamo fatto un po' di errori, soprattutto nel primo tempo, probabilmente dettati da un'assenza di lucidità e da una frenesia che ci aveva un po' preso. E poi è innegabile che l'arbitraggio ha condizionato molto la partita, un po' perché, come ho detto, in una partita piovosa, dove si è costretti comunque a giocare di fisico, far volare cartellini gialli come se non ci fossero domani, così non serve altro che aumentare il livello di nervosismo in campo, tant'è vero che poi il conto finale sono 11 gialli e due rossi, è un po' perché soprattutto le scelte più clamorose, ovvero per esempio l'espulsione di Toloi, a mio avviso sono totalmente ingiustificate, cioè ci può stare, io capisco che tecnicamente è un'infrazione, ma in una partita dove Kalinic, per esempio, continuava a fare fallo in attacco, o dove comunque tutti i contrasti in una certa entità, ma andare fuori uno perché applaude, francamente, mi sembra un po' ridicolo. Io un episodio del genere, l'unico che mi ricordo, è di Marcio Amoroso quando giocava nell'Udinese, ma anche al Parma, quindi figuratevi voi, se avete memoria più recente fatemelo sapere, ma io personalmente ritengo che usare questo metro di giudizio, oltre a rovinare lo spettacolo, crea anche un clima molto più aggressivo in campo, e poi ne va a perdere la bellezza del vedere il gioco. Il secondo elemento di cui dobbiamo discutere è la nostra ormai consueta difficoltà sottoporta, perché comunque la partita l'abbiamo dominata, uno può anche dire che il Milan magari ha fatto più fraseggio, però poi concretamente 24 tiri contro 5 del Milan parlano chiaro, il problema è che di questi 24 tiri 5 li abbiamo mandati in porta, 11 li abbiamo mandati fuori, tutti gli altri ce li hanno respinti. Cioè voi capite che qua non c'è neanche una difficoltà di costruzione, c'è una difficoltà che quando tu arrivi davanti alla porta la devi mettere e non fuori. Questa cosa qua è da settembre che ce la portiamo dietro, a tratti diventa anche snervante, perché per esempio oggi veramente uno può dire che la porta è stregata, però la porta sta lì ferma, sei tu che devi buttarci dentro la palla, non è che la porta si muove, quindi la porta sarà stregata quanto vuoi, però noi ci abbiamo messo ampiamente nel nostro per non buttarla dentro. E poi la cosa che va detta è che comunque ci sono anche delle note positive, perché per esempio a me è piaciuto tantissimo Gossens e anche Castagna, nonostante per ampi parti di partita non sia stati chiamati in causa, se questo poi è la ragione per cui a momenti avevamo grandi difficoltà a spingere in avanti, hanno fatto secondo me un bellissimo lavoro e anche il livello di copertura secondo me ci hanno dato delle grandi garanzie che forse addirittura con Spinazzola non avevamo. In una partita come questa secondo me poter contare sui due esterni che sanno anche difendere non è male. Per il resto la squadra comunque ha giocato bene, ha giocato bene, ha giocato bene Gomez, Ilcic quando è entrato è stato determinante, Barro ha fatto quello che poteva, non era la sua partita, perché comunque con il clima così e poi con dei difensori di esperienza come Milan è evidente che magari un giocatore dall'età di Barro fa qualche difficoltà, ma non c'è nessun problema, nessuno pretende che dalla mattina alla sera questo diventi un fenomeno, continui pure il suo percorso di crescita che va bene così. Poi fortuna che c'è San Masiello che la mette dentro, io ormai confesso che non ci speravo neanche più, ma sbaglio sempre a diffidare di Masiello che dal nulla compare sempre a salvarci e un'altra volta questo qua quando smette dobbiamo veramente fargli una statua sulle mura perché secondo me è l'esempio di quello che deve essere l'Atalanta, una squadra che non molla mai, che si riscatta e io spero veramente che sia anche da esempio per i giovani della primavera che si imparano a un punto di vista comportamentale metà di quello che è Masiello, siamo freschi per annate e annate. Ora non ci resta che pensare alla prossima partita contro il Cagliari che potrebbe anche arrivare con una certa tranquillità perché comunque è vero che ha due dirette concorrenti, la Spal e il Crotone alle spalle, però tutti giocano partite molto difficili e a meno che non ci siano grandi sorprese io non penso che possa cambiare più di tanto il risultato, ma mai direi mai, sempre meglio vincerla. Stasera la Sampdoria con il Napoli è determinante perché ricordiamolo negli scontri diretti la Sampdoria avvantaggiata sull'Atalanta che avvantaggiata sulla Fiorentina, quindi insomma non ci resta che aspettare per ora tifare Napoli e poi ci vediamo alla prossima partita sperando di essere in preda all'entusiasmo per l'ennesima qualificazione europea. Ciao!